buongiorno saluta oggi è mercoledì benvenuti amici di radio blinco blanco questa è la blinco parade io sono marcello crescenti e questa settimana abbiamo davvero buonasera e benvenuti a circus è il nostro programma settimanale che si è il posto che sono le missioni di ans tv e eccoci ben ritrovati per questo nuovo appuntamento del cocktail musicale le interviste una produzione ans tv